La bravura degli chef, raffinatezza e comfort in sala. Non si placano le polemiche per il piano delle alienazioni e valorizzazioni varato nei giorni scorsi. Anche se l'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni, guidata dal sindaco Vincenzo Servalli, ha rassicurato la cittadinanza sul fatto che non è in atto alcuna svendita del patrimonio comunale, non sono tardate ad arrivare gli affondi dei gruppi consigliari di opposizione e non solo. I consiglieri comunali di Siamo Cavesi, Marcello Murolo, Enzo Passa e Raffaele Giordano, hanno definito il piano delle alienazioni varato da Servalli come una pietra tombale sul futuro della città. Il problema che riguarda la situazione finanziaria del comune di Cava dei Tirreni e il piano di riequilibrio pluriannale diventa sempre più complicato. Questa amministrazione dà ogni giorno di più l'impressione di navigare a vista, senza avere un'idea di dove vuole andare e di come ci si va. Adesso abbiamo scoperto che si vuole vendere tutto il vendibile, assolutamente al più presto possibile. Noi abbiamo dubbi che questo serva alla città e serva addirittura a disanare le casse comunali, perché se non si eliminano i problemi di struttura che sono alla base, quando avremo finito di vendere ci troveremo con gli stessi problemi di prima. Qui stiamo assistendo a una sorta di asta parlamentare. Già questo dimostra che sarà difficile vendere tutto quello che il comune vuole vendere perché si satura il mercato. E poi ci sono tante cose che vanno vendute, va bene, c'è un piano delle alienazioni da tantissimi anni al comune di Cava. E le cose che invece a Cava servirebbero, le cose sulle quali invece Cava deve puntare per il futuro, vendiamo anche quelle. Quelle che è l'edità storica di Cava, penso per esempio al Palazzo Buongiorno, al cosiddetto municipio vecchio, poi saremo contenti perché ci abbiamo messo una hamburgeria dentro, però continuiamo a parlare di Cava, della sua identità e della tradizione storica. E una tradizione storica, la visione della città, è fatta anche di edifici. Noi stiamo vendendo anche questo. Anche il consigliere comunale Eugenio Canora, fu riuscito dalla maggioranza lo scorso settembre, ha fatto sapere che non voterà il piano delle alienazioni e valorizzazioni quando approderà in aula. Naturalmente quando un comune comincia a vivere situazioni finanziarie difficili, come il comune di Cava, le alienazioni sono inevitabili. Non si può pensare di non vendere quando hai debiti. Questo vale per le aziende, vale per le famiglie e vale anche per gli enti. Ora la domanda non è se vendere, ma cosa vendere? Perché se è vero che molti immobili comunali per l'ente del comune sono più un costo che un ricavo, è anche vero che non per tutti è così e non per tutti deve essere così per sempre e per forza, perché si possono valorizzare questi immobili, dargli una ragione e magari anche renderli un meccanismo di introito per l'ente. Si parla della vendita della biblioteca comunale, naturalmente con questo termine si parla della vendita dell'immobile, non dei libri della ricchezza patrimoniale che conserva, che ovviamente rimarrà sempre di proprietà dell'ente. Tuttavia la vendita di quell'immobile è simbolico, perché è un po' come vendere un luogo di cultura. E non a caso la biblioteca ha causato la maggiore reazione da parte della città. Quella può diventare un'area di co-working, un'area di co-living, dove i ragazzi, gli studenti, ma anche i giovani professionisti vanno lì a studiare, a trovare la loro strada per la formazione della loro start-up. E poco importa che magari in questo momento non esiste la perfetta accessibilità, perché rendere quei luoghi per tutti deve essere un obiettivo per l'ente. Ed esistono tantissimi fondi per poterla rendere accessibile anche per le persone con disabilità motoria. Esiste la possibilità di rivalutare il nostro patrimonio immobiliare, esiste la possibilità di farlo, dobbiamo programmare l'ente e dovrebbe farlo con maggiore precisione. Io purtroppo su quest'atto non posso convergere, perché credo che in questo momento l'amministrazione stia commettendo un errore. È anche un po' il compito che mi sono definito. Libertà e la possibilità di votare a favore laddove i provvedimenti sono giusti, come per esempio fatto per la Mediateca Marte, ma anche contro qualora i provvedimenti vanno in una direzione di impoverimento della città.